A Cosenza si è conclusa l'edizione 2016 della tradizionale fiera di San Giuseppe che anche quest'anno ha registrato numeri importanti. Oltre 500 gli espositori che hanno animato per cinque giorni via Le Mancini e gli altri spazi fieristici. Grande l'affluenza di visitatori provenienti da tutta la Calabria, concentrati soprattutto nel fine settimana. Durante tutta la manifestazione fieristica sono stati predisposti una serie di servizi che hanno garantito la sicurezza dei cittadini e l'igiene pubblica. Pur nelle ristrettezze di bilancio la gestione commissariale del comune di Cosenza non ha inteso rinunciare ad alcuni eventi collaterali ed artistici destinati a tutte le fasce d'età. Un'attenzione particolare è stata riservata anche ai bambini con bimbi in fiera, una serie di attività ludico-didattiche messe in campo da alcune associazioni presso l'ex Caffè Letterario. Io devo ringraziare tutti quanti a partire dai subcommissari a tutto il personale del comune, alle associazioni di volontariato, a tutta la gente che ha contribuito ognuno nel suo piccolo modo e con la sua piccola volontà, col suo piccolo contributo a far riuscire questo evento. Per me è stata una scoperta, ma Cosenza è una scoperta continua, è la scoperta dell'America di Angelo Carbone. Per me è stata una scoperta, ma Cosenza è una scoperta, ma Cosenza è una scoperta, ma Cosenza è una scoperta. Grazie a tutti.